Carissime amiche, carissimi amici, benvenuti, buona giornata a tutti. Come state? Spero bene, spero bene. Dobbiamo oggi commentare, per il caso della Resinovic, quello che si è detto ieri in varie trasmissioni, come Story Italiane, ore 14, ecco. E allora, vabbè, per Story Italiane c'è da dire poco, perché hanno fatto sentire ancora una volta Sterpin collegato, non si sa che titolo, ovviamente, dal mio punto di vista, e che ritorna sul leitmotiv di quella famosa telefonata delle 8.22, che dopo tanto tempo che è stato ribadito, che è durato un minuto e 36 secondi, e che lui aveva detto, sì, è durata tanto, è perché l'avrò di improperata, che non si faceva sentire, no, è perché magari avevamo discusso dell'orario degli autobus, tutte quelle belle robe lì, e adesso ritorna all'origine. Sì. A Story Italiane, intervistato, non si sa quale titolo, lui dice, in merito a quella telefonata, è una telefonata che è durata pochissimo. Il tempo che lei mi dicesse, faccio un pochino più tardi, perché passo alla wind. Ecco. Di nuovo si azzera la mente, si azzera la mente, proprio come in un colpo di spugna, e questa telefonata delle 8.22, di un minuto e 36 secondi, che lui aveva provato, insomma, a giustificare in qualche modo, adesso diventa come prima, diventa una telefonata brevissima, brevissima. Ora, questo c'è, poi niente altro di che, insomma, non mi ha colpito niente altro. Invece a ore 14, a ore 14 c'è ospite Gabriella, quella che è diventata la migliore amica, la migliore amica della propria Liliana, e cosa dicono? Ecco, parlano di questo famoso braccialetto ritrovato dopo 8 mesi, dopo 8 mesi, in quel contesto, sempre addirittura a 200 metri, e che forse poteva essere riconducibile alla povera Liliana, ma non sarà affatto così. Sono stati chiamati i familiari a vedere se riconoscevano questo braccialetto, che sembra poi non corrispondere a uno che avesse Liliana, anche perché non si capisce poi, a parte dopo 8 mesi, ma non si capirebbe il senso di questa cosa. Un braccialetto a distanza enorme per fare che, immaginando che lei lo lanciasse così, ma poi, com'è? Si priva di qualsiasi gingillo, qualsiasi catenino, qualsiasi anello, e ne portano uno per poi lanciarlo così a 200 metri. Poi, Gabriele cosa ci dice? Ci dice il solito senso unico, viene applaudita, viene fatto un plauso alla lettera mandata al questore, affinché, ecco, si facciano indagini, e sicuramente, sicuramente, insomma, è una cosa su cui io mi trovo molto d'accordo su questo. Soltanto che, in effetti, qual è il senso di dire al questore, andiamo avanti, andiamo avanti a scoprire la verità, non puntare l'indice sempre nella stessa direzione. Purtroppo, è un equivoco di fondo questo, di cui, secondo me, non c'è da fare niente. Poi, si assiste agli stracci che volano tra Gabriele e l'Abruzzone, ecco, ci sta la rottura più completa, perché inizia Gabriele, l'Abruzzone, con i suoi 5T, ci dice che i 24 punti, 24 punti su 25, indicati dal GIP dai notti, sono già stati verificati e che non è emerso nulla. E allora si va a provocare l'Abruzzone come se, come se lei postasse acqua al mulino di qualcuno, quando fino a qualche mese fa, ecco, si davano del tutto da carissime amiche. L'Abruzzone dice, io riferisco quello che mi è stato detto e quello che sta accadendo. Allora, poi, Gabriele, che poi si danno del lei, questa è una cosa bellissima, dal tu intimo, si è passato a lei. Allora, dice Gabriele, lei Bruzzone, lei dottoressa, non si potrebbe avere, mi dica, il nome di quei volatili, di quegli uccellini, che parlano con lei, quindi, usando, diciamo, una forma ironica. Non mi sembra una bella cosa questa. Poi dice, Sergio, non si fermerà mai, non si fermerà mai. Ora, fa molto bene non fermarsi mai, ma bisognerebbe chiedersi, non si fermerà per cosa? Per che cosa? Per la verità. Ma la verità sta nell'apertura mentale. Quando si dice, probabilmente, il suicidio non è, è di omicidio qualcuno che ha fatto del male, quel qualcuno può essere anche che venga da fuori, che faccia parte di qualche altra realtà. Invece, questo non si mette in cantiere. Perché? Perché bisogna credere a quello che non è. Bisogna credere alle favole. Poi, Milo Infante cosa ci dice? Dice, secondo me, se il corpo non poteva stare lì, e allora la morte del 14 dicembre non è suicidio, ma se la morte dovesse essere datata a inizio di gennaio, diventa complicato dimostrare l'omicidio, e quindi è più probabile il suicidio. Vedete, sono punti di vista. Io penso esattamente il contrario, cioè che una morte datata a inizio di gennaio non è suicidio, ma è dimostrazione dell'omicidio. Milo Infante dice il contrario. Perché Milo Infante dice il contrario? Perché Milo Infante dice che una morte di Salenda a inizio di gennaio si configura più come suicidio? Perché? Perché se lei è morta a inizio di gennaio, vuol dire che è stata per 20 giorni nascosta, a sfogliare la margherita, perché era tormentata nel cuore, perché doveva andare dall'amore della sua vita dopo 40 anni a pensarci, ancora ci doveva pensare. Non erano stati abbastanza. Quindi ci si aggrappa di nuovo a questa stupidata della storia d'amore che non è mai esistita. Mai è esistita che il rapporto fra lo Serpin e Liliana ci fosse pure assiduo, questo è accettato, ma non aveva natura amorevole, secondo me. Quindi, non arrivando ad ipotizzare nulla che porti oltre la favola a Serpin, dice allora, se la morte è di inizio gennaio, allora sarà più suicidio. Io dico no, invece. No, perché proprio una morte che viene fatta di salire a inizio gennaio significa che la donna è stata portata via. È stata portata via a forza, è stata sequestrata, è stata portata via e forse non se la aspettava nemmeno Liliana, nonostante che lei fosse arrivata lì, senza alcun tipo di identificazione. Però, ovviamente, non c'è niente da fare. Le favole, quando sono entrate nel luogo comune e nella mente, è difficile che escano. Quindi, c'è questo equivoco di fondo, di considerare vero ciò che non è. E poi, vedete, nella trasmissione, poi lasciatemelo dire, ogni tanto si fanno delle inquadrature e si è inquadrata per tre o quattro volte la lapide della povera, a cimitero, no? La lapide della povera Liliana con ancora quel foglietto messo dallo serpin con lo scotch, ancora inquadrato, senza un po' di ritegno. Nessuno che lo butta via come se fosse una deliquia che è stata messa lì. Anche questo fa parte, secondo me, non di una cosetta informazione. Non si può attribuire alla Resinovic, senza che lei possa difendersi, una storia d'amore che non esiste, non è stata dimostrata, da nulla, da nessuno, né testimoniata da niente. Però, certamente tutti vogliono sapere la verità a parole, però nessuno ha il coraggio di allargare le maglie dell'indagine e si preferisce sempre fare i soliti discorsi al senso uniche, le cose solite, le cose solite, le solite cose. Allora, ad esempio, tanto per farvi un esempio del senso unico di cui si è parlato ieri in trasmissione, Gabriella dice, gli inquirenti, ad esempio, non hanno visto subito nel magazzino di Sebastiano che non aveva detto subito immediatamente che aveva quel magazzino dove aggiustava i cortelli. Allora Gabriella dice, ma gli inquirenti non hanno visto subito e perché lui non ha detto subito che aveva quel magazzino in modo che gli inquirenti lo potessero ispezionare? Ecco, ecco. Ed allora, vorrei dire, perché non si usa lo stesso metodo di giudizio e non ci si dà una spinta di obiettività nei ragionamenti? Eh? Come mai? Se si dice questo, ed è corretto pure, sostanzialmente è corretto anche questo, ma perché non si dice perché qualcun altro non ha detto di questa specie di incontri nel garage, nella cantinola, nella soffitta, dove per tantissimo tempo non è stato detto nulla, non per un mese o due, ma per oltre un anno e mezzo non è stato detto nulla. E forse non lo so, a casa di Sebastiano andarono, non lo so, se andarono a casa di questo serpino, non lo so, non lo so, forse no. Questa è la mancanza di oggettività, la mancanza di serenità, il senso unico di chi vuole credere autentica una storia che non è mai esistita. Ma io a costa di essere noioso voglio ribadire un concetto. Quando qualcuno dice migliaia, centinaia di telefonate e messaggi, dice una cosa sostanzialmente inesatta, perché i messaggi ce ne stanno quasi nulla, tutti criptati in una maniera incredibile, nessun messaggio esplicito di nulla. Centinaia e centinaia di telefonate, sì, nessuno li ha mai negate, ma tutte telefonate brevi che non hanno, non hanno il senso, non hanno le caratteristiche di telefonate di amore. Questo lo avete capito. E fra tutte queste telefonate, due ultime, una di 12 minuti e quella del 13 dicembre, di 16 minuti, non sono mai state ricordate dallo Serpino. Mai dette, mai ricordate il contenuto. Eppure stiamo parlando di telefonate chilometriche per le abitudini della Resinovic. Quindi, ci si continua nello sport di andare a pescare a senso unico nei confronti di un Sebastiano che è un soggetto per carità proprio indifendibile. io lo dico perché lui si accontenta di avallare certe cose per non avere fastidi. Per carità, Sebastiano. Ma si va a speculare sempre è la moto e l'officina e la GoPro, dobbiamo verificare la GoPro e la borsa e tutte queste, come dire, questi particolari. Ma voi pensate solamente, tanto per dire un particolare, se in quel filmato che poi è uscito dopo tanto tempo in cui Gabriella seguiva a poche centinaia di metri Liliana quella mattina, se invece di apparire Gabriella fosse apparso Sebastiano o a piedi o in bicicletta, apri di cielo, si sarebbero fatti dei romanzi. Allora, purtroppo, non c'è niente da fare. contro la narrazione unica e questa narrazione unica fa in modo che questa vicenda sia condannata ad essere ascriviata proprio perché non si vuole parlare d'altro, non si vuole ipotizzare altro. e allora a un certo punto tornando adesso sul fatto che sono volati gli stracci fra la Bruzzone e Gabriella, prima amiche che si davano del tu anche in televisione, allora la Bruzzone è molto esitata da come è stata trattata per i 5T e gli uccellini eccetera allora reagisce dicendo ma vicino a Gabriele lei che dice tutte queste cose qui vedete qua vedete là ma mi spiegate dice perché voi tre lei Salvo e Serpin vi siete visti quel 3 di gennaio 2022 a poca distanza da dove è stato ritrovato il corpo e gli fa questa domanda scomoda e Gabriele è molto irritata molto irritata e dice non risponde praticamente dice se lei lei sembri lei se lei ha letto il faldone si dia la risposta da sola se lei ha letto il faldone si dia la risposta da sola e si davano del tu si davano del tu e l'Abruzzone però cosa dice mi dovete spiegare rispondete come mai vi siete visti proprio a quel posto lì e allora Gabriele sempre più stizzita dice lei 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 sta facendo illazioni nei nostri confronti ah illazioni allora l'Abruzzone giustamente replica lei 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 non vuole rispondere queste sono delle semplici domande e non si chiamano illazioni sono solo domande e poi lei parte di illazioni lei che ne dice di tutti i colori su Sebastiano altro che illazioni quelle là no che ne dice tutti i colori ecco e su questa ragione l'Abruzzone se lei per fare una domanda viene accusata di illazione allora quelle che vengono dette su Sebastiano che è altro che illazione non si accusa così manifestamente ma purtroppo Sebastiano si fa dire di tutto ricordatevi Sebastiano è quella persona che è stato accusato non solo di aver ucciso la moglie di essere un malavitoso di essere un coltuttore di essere uno che fa sesso infantile ed ha avuto diciamo il coraggio fra virgolette di non reagire di non reagire e questo non è un atto di coraggio no non lo è affatto perché faceva comodo così faceva comodo non smuovere le acque questa è la verità di Sebastiano comunque ritornando all'abruzzone che fa fuoco e fiamme dice io non faccio illazioni io faccio domande poi se vuole rispondere bene altrimenti non risponda e Gabriella sempre più in difficoltà prova a dire qualcosa dice no ma noi ci siamo visti al posto delle fragole lì che non è proprio vicinissimo a dove è stato ritrovato il corpo eh sì dice l'abruzzone però guarda caso due giorni dopo lo Serpin va in questura a dire di cercarla proprio lì proprio lì e lì viene trovata certamente è una combinazione quindi tutte queste cose qui se fossero state fatte da Sebastiano ma voi pensate che ne saremmo ancora parlando va bene quindi è tutta una combinazione di andare a cercare lì lì si trova e in diretta viene detto vi ricordate lo Serpin è stato trovato un corpo e lui invece di essere angosciato di dire madonna fa che fosse Liliana no dice ah bene bene ancora meglio eh cioè uno dice lo sai è stato ritrovato un corpo lì a San Giovanni ah bene bene ancora meglio io l'avevo detto io ho avuto ragione ho avuto ragione dice l'ho detto io stamattina l'ho detto io ho avuto ragione è il corpo che sta in un sacco eh se sta in un sacco nero non va bene un sacco nero non va bene e lui cercava già a dicembre con una Liliana scomparsa la cercava vi ricordo detto da lui la cercava già nei sacchi neri morta buttata nei sacchi neri non si sa per chi nei sacchi neri oppure in alternativa la cercava buttata nuda nuda nel bosco lì ma completamente nuda non si sa per chi è una fantasia allora vedete il problema qui è il solito si vuole creare quel fighi bellini non ha senso tutto ciò facciamo le manifestazioni protestiamo andiamo da quest'ora andiamo dal presidente della repubblica andiamo dal ministro della giustizia il problema è che qualsiasi cosa ci dirà la dottoressa Cattaneo non ci potrà dire niente di certo ma qualcosa potrà dire circa magari l'epoca della morte va bene oppure circa qualche violenza presente su quel che rimane del corpo va bene ma la sostanza qual è? la sostanza è trovare chi eventualmente ha fatto del male a questa donna per trovare chi ha fatto del male a questa donna bisogna togliere i paraocchi e quelle bisogna non si può dire noi a maggioranza a maggioranza siamo 12 di noi abbiamo deciso di indicare un colpevole quindi fate così e si fa così no bisognerebbe dire togliamoci i paraocchi togliamo queste stupidate da mezzo e insieme alla procura alla questura ai carabinieri prendiamo 4-5-6 piste 5-6 piste alternative e andiamo fino in fondo non che bisogna dire no a noi non ci interessano altre piste no perché lei visto che doveva convolare e a nozze con lo serpin l'amore di una vita non è vero niente è questo ma come voi non vi ricordate allora io devo ripetere per l'ennesima volta non è l'amore di una vita di nulla perché lui stesso per tanto tempo ci è venuto a raccontare che era fine agosto 2021 quando lui incontrò dopo tanto tempo ci disse Liliana al cimitero casualmente e la raccontò della sua vita da vedovo visto che era venuta a mancare la moglie e che era disperato e Liliana si offrì in nome di una vecchia reminiscenza di dire una volta ogni 15 giorni vengo a darti una mano poi pian piano l'escalation ecco quindi da qui si vuole dire una vita d'amore stava andando lì non andava d'accordo poi vedete ma come è possibile credere a queste cose se si dice all'inizio una coppia meravigliosa nessuno le ha mai viste litigare non si può dire niente ora man mano questo Sebastiano è diventato il geloso quello che seguivo quello che riprendeva quello che non andava d'accordo il matrimonio è finito e lo Serpini si accoda a questo a questo teatro dell'assurdo si accoda a questo dicendo eh prima disse da quando tornarono dalla vacanza estiva l'ultima vacanza di 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 luglio-agosto lì 2021 eh lei era un po' diversa quindi gli ultimi tempi non era più la stessa cosa faceva troppo caldo faceva troppo caldo lì troppo caldo faceva lì in Grecia e quindi non andavano più d'accordo negli ultimi tre quattro mesi no negli ultimi sei mesi poi no negli ultimi anni no ma forse negli ultimi due anni sempre di più adesso l'ultima intervista lui lui dice eh no quasi cinque anni che non andavano d'accordo ma perché non facciamo dieci perché non diciamo che non sono mai andati d'accordo ma come è possibile dire tutto è il contrario di tutto c'è Gabriele che dice che Liliane chissà come lei aveva saputo che quando si era innamorato di questo Sebastiano che cacciava rotolone di soldi aveva la Jaguar la postava in giro dappertutto proprio e chi era? e il fratello Sergio invece dice no ma non era d'accordo perché questo era uno che non faceva niente dormiva in macchina non era adatto per mia sorella vedete bisogna togliersi i paraocchi al mio avviso c'è l'ipotesi c'è l'ipotesi fra le tante che lei potesse essere caduta in qualche giro particolare di cui sicuramente qualcuno forse anche Sebastiano più probabilmente Serpino poteva sapere poteva essere a conoscenza poteva avere qualche dubbio perché l'allarme di quella mattina del 14 è molto più che sospetto molto sospetto e allora giustamente lui va subito in polizia a dire se trovate le migliaia di telefonate perché era l'amante e si ferma qui tutta la cosa e adesso e adesso invece si vuole seguire un senso unico che purtroppo non può postare a niente il presupposto ma come si deve fare a farvi capire che il presupposto non è che Liliana può essersi tolta la vita perché non si decideva chi amare oppure è stato ucciso perché qualcuno gli ha impedito di coronare il sogno d'amore non c'entra niente questa cosa non esiste questa cosa qua questa cosa qui non esiste non esiste si ve la volete raccontare raccontatevela però non potete dire poi la questura la procura ecco allora dite signor procuratore noi abbiamo deciso a maggioranza che il colpevole deve essere anche la Cattaneo dice è uscito fuori che il colpevole è Sebastiano non si ragiona in questo modo qua purtroppo non c'è nessuna speranza finché si ragiona secondo questa ottica ecco detto ciò questo è il ragionamento di oggi la riflessione secondo quelle che abbiamo visto quindi io vi auguro la buona giornata grazie sempre dell'affetto con il quale mi seguite condividete il video dappertutto buona giornata e un abbraccio a tutti quanti voi